Ecco, beh, immagino, beh, come pazzi sopra Spiego un pochino, praticamente, ti dobbiamo passare, devo entrare questo tubetto all'interno, che è il ricevitore, sai? Sì, 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 sì No, niente, niente Sì, sì, sì L'orecchio adesso ti risulterà abbastanza grande, sai? Sì, sì, sì Valuterai tu dopo, giustamente, se lo vedi La mia idea era di ingrandirlo in futuro Allargato? Sì Vabbè, 3 mm, vero? Ho fatto? Sì, ho finito Allora, provo ad adesso il cerchietto, adesso lo vedi? Grande, valuterai tu e dopo